Interattivi, anche se l'interazione fra di loro è molto complicata, ancora abbastanza oscura, che sono da un lato gli strumenti tecnologici che, come abbiamo sentito e come immagino avete sentito, tutta la giornata servono a stabilire delle relazioni complesse fra le persone e una particolare attività industriale, un settore industriale che ha lo stesso scopo, se voi ben ci ragionate. Cioè il turismo serve a stabilire dei nuovi contatti fra le persone. Quindi abbiamo di fronte due sistemi che hanno un certo grado di omologia, anche se poi il modo con cui ciascun sistema riesce a sfruttare tutte le potenzialità dell'altro sistema e viceversa è ancora molto lontano dall'essere definito. Quindi noi siamo qui, voi, noi e nei prossimi tempi soprattutto voi c'è una sfida di cercare di capire quali sono in questo complesso insieme di dendriti, di variabili, di connessioni, quali sono le connessioni più fruttuose. Qui dobbiamo sapere una cosa, dirci una cosa importante, il titolo sarebbe Squinternet, surfing del tsunami, cioè internet è una cosa che fa veramente uno squinternamento e lo squinternamento io lo paragono a una situazione di fare del surf su un'onda anomala. Qui c'è un gioco di parole perché voi sapete molto bene che surfing the web è uno dei modi con cui si naviga nell'internet. Lo tsunami è una cosa che è molto pericolosa ma anche può essere cavalcata, dipende da dove ti trovi, dal grado di controllo che tu hai di questa faccenda. Però certamente lo tsunami è in corso, noi lo vediamo in tutti gli aspetti della nostra vita. È uno tsunami un po' ambiguo perché molte delle cose, dei cambiamenti che avvengono sono insinuanti. Noi sono cambiamenti che non percepiamo necessariamente tutti assieme a scala catastrofica, percepiamo alcune cose. Per esempio prima veniva citato l'email e l'invio eccessivo di messaggi e questo è un problema, non è una cosa marginale. Anche se poi nella nostra vita lo vediamo in modo marginale e accessorio, esattamente come il traffico urbano. Cioè di per sé è una cosa in cui ciascuno di noi cerca di cavarsela, complessivamente nell'aggregato è un problema gigantesco di difficile soluzione. Nello stesso sta avvenendo per quello tsunami che sono le informazioni. Per chi, vedete, troppo giovani, però poi queste cose vanno così rapidamente che non si può nemmeno dire giovani o non giovani. Qualche anno fa chi usava lo strumento della posta sostanzialmente cosa faceva? Non c'erano i browser, non c'era mosaic, non c'era niente. Ovviamente si viaggiava in Unix o con dei programmi molto rudimentali che però davano una straordinaria, eccezionale capacità di parlare con il tuo amico. Ma cosa facevi con il tuo amico in California, per esempio? Alla mattina ti mandavi una cartolina, sostanzialmente questo era il primo uso. E quindi la tua posta, se tu prendi il caffè tra le 8 e le 8 e 10, o le 7 e le 7 e 10, a seconda di chi si alzava, in dieci minuti avevi fatto quello che dovevi fare ed era un'attività molto piacevole. Il post moderno in realtà era già stato concepito esattamente, più o meno esattamente, 80 anni prima da geni come questo. E naturalmente c'è anche un elemento di tecnologia. Ci sono strumenti che permettono di viaggiare molto velocemente. Questo è uno strumento che buca il muro del suono, questo è uno militare ma c'erano anche quelli civili, poi erano costosi e l'hanno dismessi, ma si può fare, se può fare. E la fine della parabola è il logo che voi dovreste conoscere molto bene, che è il logo della Cunard Lines, «Going there is half of the fun». Questo per dimostrarvi come attraverso i legami con le tecnologie per i trasporti si è cambiato l'atteggiamento nei confronti del muoversi da qualcosa che era difficile, che facevano in pochi, che era anche disprezzato in un certo senso, diventa l'oggetto del piacere. E noi siamo appunto nel sistema turistico che ha come oggetto del piacere quello di trasportarsi. Quindi questo è un esempio, ne possiamo fare tanti, per illustrare questa relazione. Allora, a cosa serve? Come la dovete interpretare voi questa tecnologia? Questa tecnologia che nello stesso tempo è un'opportunità, perché la tecnologia è quella che vi dà la possibilità di fare delle cose, ma è anche un vincolo, perché le cose che potete fare con quella roba lì hanno limiti e nello stesso tempo hanno dei costi. Questo è da capire sempre bene. Non è che la tecnologia vi porta o vi spinge o vi obbliga. No, la tecnologia è uno strumento, come tutti gli strumenti, può fare alcune cose e non altre. Non potete volare con un martello, potete fare molte cose e andare con un martello. Lo stesso, se avete un aeroplanino non potete tagliare il legno. Ogni tecnologia ha i suoi limiti e i suoi vincoli, ma nello stesso tempo ha delle grandi possibilità. E queste possibilità sono appunto legate, nel vostro caso, nel caso di questa discussione che si faceva oggi, a delle strutture sociali, cioè al fatto che tu hai la tecnologia per che cosa? La fai per che cosa? Certo, evidentemente, e mi sembra che poco fa è stato detto molto chiaramente, tu puoi usare iniziare Facebook, ma se non ci sono le condizioni per sostenere il rapporto, finisce. finisce lì, no? Quindi, allora, dobbiamo capire che cosa si deve fare nel campo del turismo con questi strumenti. Si possono fare moltissime cose. Non solo si possono fare moltissime cose, ma sono state fatte, adesso qui vado ad andare molto rapidamente, sono state fatte molte cose. Per esempio, la cosa che si può fare, se mi permette la banda larga di andare avanti, si può fare questa cosa qua. si può utilizzare la città per fare, organizzare delle grandi attività politiche. Per esempio, questa attività qui. Questa è una tipica attività importantissima che è stata fatta, è cominciata nel 2001, che sono i World Social Forum. Adesso avete l'onda viola, beh, questo è un precursore dell'onda viola. Si può organizzare una cosa importante. Guardate che a Porto Alegre, è venuto una volta a trovarci qui, c'è persino un assessore che si occupa del turismo politico a Porto Alegre. Porto Alegre è un posto più o meno di villeggio non tanto famoso in Brasile, come sapete, è diventato un posto importante. E questa attività si è diffusa in tutto il mondo, a volte creando anche dei grandi conflitti. Come sapete, il G8 a Genova è stata un'occasione di grande conflitto. Ma, per esempio, due anni dopo, a Firenze, è stato invece un evento di grandissimo entusiasmo collettivo e non si è rotto nemmeno una vetrina. Anzi, nonostante tutte le cose, si è rotta una vetrina, ma gli organizzatori l'hanno pagata, se vi ricordate bene. Quindi, per dire, però, crea molta... è uno squinternet, uno tsunami, crea ansietà. Qui, quando c'è stata una campagna contro il Social Forum, Firenze, una città in ostaggio, queste erano tutte fotografie dell'epoca. Guarda qua, polizia sotto il Ponte Vecchio, cercavano le bombe. Poi, in realtà, invece, questa è una cosa di Giannelli, molto carina, invece, il fiume delle persone. Qui c'erano i cecchini che controllavano la cosa. E poi, questo è il titolo più bello di tutti, l'ha fatto, mi pare, o il giornale, o il libero. No global, no shopping. Tutti i negozianti che hanno avuto paura non hanno chiuso, quelli che hanno tenuto aperto hanno fatto i soldi a palata, naturalmente. E quindi, però, è una di tante attività. E sono tutte organizzate ormai solo attraverso lo strumento. E questa è la cosa straordinaria. C'è uno strumento che costa poco, ma va utilizzato bene. Va utilizzato bene. Come si fa? Beh, sì, ci sono ormai dei modi abbastanza codificati, ma, però, sono tutti un po' così incerti. Ci vuole l'intelligenza. Ci vuole qualcuno che metta dentro la propria intelligenza. Quindi, la mia raccomandazione, lo stimolo, è che voi dovete veramente spremervi il cervello per inventare delle cose. Questo è un mondo dove si può inventare. Il costo di ingresso di questo oggetto è bassissimo. Quello che conta non è tanto il costo, è l'intelligenza di trovare la nicchia, la fessura nel sistema che permette poi di aumentare. Basta vedere la storia di alcune di queste grandi imprese, come voi sapete, sono tutte storie di persone giovani che hanno iniziato con un'idea, magari un'idea visionaria. L'idea di Tim Berners-Lee, che era giovane, ma poi però era anche una struttura, era quella appunto di fare, l'inventore del web, era quella di fare, originariamente, era un'idea di classificare tutti i paper del mondo. Cioè, era un'idea un po' visionaria, l'ha usata, dopo di che ha messo in piedi il web per scambiarsi tra scienziato e scienziato, e poi è diventata una bomba quando qualcuno ci ha messo sul cappello dal punto di vista commerciale, con il browser, e il primo è stato Netscape in questo caso. Quindi, quello che secondo me bisogna veramente cercare di capire è che questo tipo di tecnologie cambia veramente molto le relazioni sociali, o meglio, per ricollegarmi a quello che ho detto prima, permette il cambiamento delle relazioni sociali da parte di chi vuole usarlo per cambiare le relazioni sociali. Concludendo, il turismo è un sistema molto adatto a innovazioni in questo senso, perché purtroppo in Italia, come voi sapete, avete credo tutti studiato in questa facoltà, in questo corso di laurea, avrete imparato che purtroppo il nostro sistema è un sistema che finora non ha ancora capito bene cosa vuol dire il turismo. Cioè, concepisce l'intervento economico del turismo soprattutto da due punti di vista che sono parziali e non del tutto adatti. Da un lato come un sistema fordista, cioè come un sistema di imprese organizzate, che va benissimo, ci sono. E dall'altro come comunicazione. Ma ora la comunicazione, se non ha niente da comunicare, non serve. Purtroppo questo ministero del turismo è tutto per la comunicazione, si vende tantissime comunicazioni. Ma dietro cosa c'è? Manca, diciamo, come si diceva in Francia ai tempi della prima guerra mondiale, l'entendance, come diceva De Gaulle, mi pare. L'entendance suivrà. Eh no, l'entendance. L'entendance vuol dire la logistica. l'entendance vuol dire la logistica. all'entendance. L'entendance vuol dire la logistica.